Musica Bentornati con le consuete previsioni a cura di MeteoOne. Dall'immagine satellitare è possibile notare un vasto campo di alta pressione che abbraccia tutto il Mediterraneo e l'Italia. I suoi massimi valori andranno a posizionarsi proprio sulla nostra penisola, favorendo nella giornata odierna condizioni meteo ottimali e temperature emiti. Questo accenno di primavera però durerà ben poco, perché già dal weekend sono evidenti i primi segni di cambiamento. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per giovedì 16 febbraio. Al primo mattino sensazione di freddo accentuato nelle zone interne di Puglia e Basilicata, ma con presenza di cieli sereni che ci accompagneranno durante tutto il resto della giornata. Solo nubi alti e stratificate potranno interessare il Brindisino e in generale il Salento. Durante la sera cieli stellati ovunque. Temperature in aumento nei valori massimi, stazionari e fredde nei valori minimi. Venti nord-occidentali su tutti i settori con rinforzi solo lungo le coste adriatiche. I mari risulteranno da calmi a poco mossi. Ed ora ecco la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Paolo Lacu per questa suggestiva foto che ritrae la luna piena a specchiarsi nel calmo mare di Santa Cesarea Terme. Se volete inviare la vostra foto del giorno vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappula oppure alle mail che vedete in sovrimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.